Imparare cose sbagliate e avere in testa idee sbagliate può rovinarti la vita. Il problema è che la maggioranza di queste idee te le insegnano nei corsi di formazione. La maggioranza dei corsi di formazione e dei libri di crescita personale e formazione ti propone idee quantomeno opinabili. Scopri in questo video da 15 minuti, secondo più secondo meno, come stanno davvero le cose. Prima di cominciare un'avvertenza molto importante. Questo video potrebbe persino darti un po' fastidio perché sto per parlarti di una serie di miti che probabilmente hai imparato durante i corsi di formazione o dei quali hai letto nei libri che non sono poi così utili per la tua crescita personale. È la stessa cosa che è successo a me. Dopo anni di corsi e centinaia di libri letti ho scoperto che le cose non stavano esattamente come mi avevano raccontato e questa cosa può dare un po' fastidio. Tu a questo punto hai due possibilità. La prima è ignorare quello che sto per dirti e continuare a credere alle cose che ti hanno raccontato. È una libera scelta. La seconda è quella di, come dire, superare il tuo fastidio e abbracciare il cambiamento perché quando inizi a renderti conto di come stanno davvero le cose è proprio lì che la tua vita comincia a prendere una lega diversa. Perché è così importante conoscere la verità? Perché se tu hai in testa una serie di idee sbagliate e utilizzi quelle idee per interagire con le altre persone rischi di prenderti delle cantonate micidiali. Stiamo parlando di qualcosa di molto di più importante che non sapere come funziona una tecnica o l'altra. Parliamo delle idee che hai in testa e che possono rendere la tua vita molto impegnativa oppure se sono idee buone un capolavoro. Il primo grande falso mito che è probabilmente anche più diffuso è il mito delle percentuali di Albert Merabian. Avrai sicuramente visto in qualche corso, letto in qualche libro un grafico a torta secondo il quale quando interagisci, anzi quando comunichi secondo la vecchia scuola con qualcuno l'efficacia della tua comunicazione è data dal 7%, soltanto il 7% dalle parole, il 38% dell'efficacia invece è legato al tono di voce che usi mentre parli al tuo interlocutore e il 55% è legato alla comunicazione non verbale. È falso, è sbagliato. Anzitutto perché leggendo il libro e non soltanto la copertina alcuni formatori potrebbero scoprire che lo stesso Merabian dice che il suo studio ha una valenza specifica solo in un contesto specifico e lui nel libro diffida le persone dall'utilizzare queste ricerche in altri campi che non siano quelli che lui ha voluto analizzare. Tu pensa che addirittura Merabian in un carteggio con uno psicologo, Atkins, ha diffidato pubblicamente formatori, guru, lui li chiama pseudo esperti, a utilizzare queste percentuali e si dice sconfortato. Nel 2020 ignorare questi dati è sintomo o di ignoranza becera, il che ti lascia immaginare se sbagliano questo quanto possono insegnarti poi da altro, oppure di volontà precisa di ignorare i fatti. Quindi è un mito. La verità è che quando interagisci con qualcuno ci sono ben più di tre livelli di comunicazione, ci sono molte altre variabili e soprattutto è di fatto impossibile stabilire in modo preciso e scientificamente corretto quali sono le percentuali di incidenza. Quindi attenzione a questo importantissimo falso mito perché questo davvero può rovinarti la vita. Tra l'altro rimanendo in tema percentuali c'è ancora qualcuno, per fortuna pochissimi ormai, che sostengono che noi utilizziamo il 10% dal nostro cervello. Probabilmente, ipotizzo, si riferiscono al fatto che il cervello di alcune persone è grande il 10% di quello che dovrebbe essere, perché in realtà il cervello lo usiamo tutto. Anche solo per guardare un albero tutto il cervello si accende. Siamo davvero nel mondo del mito, un po' come quelli che ti dicono che tutto dipende da te, che la tua energia quantistica produrrà effetti meravigliosi, che se incontri qualcuno al bar c'è l'entanglement. Lascia parlare di fisica quantistica i fisici quantistici. A proposito di quello che ti ho appena detto e di tutti i miti di cui ti parlerò, considera che per noi di HCE è fondamentale avere chiaramente un supporto scientifico e rigoroso alle argomentazioni che ti proponiamo. Quindi nella descrizione di questo video trovi tutte le ricerche che volendo puoi andare a spulciarti anche solo per tua curiosità intellettuale. Colgo l'occasione anche per dirti che se hai argomentazioni da portare a supporto di questa cosa o anche solo per un confronto puoi pubblicare i tuoi commenti ovviamente lasciando da parte la tua opinione. Nel senso che si tratta di argomenti scientifici laddove le opinioni hanno pochissimo valore. Quindi se vuoi commentare dicendo con me non funziona, ma io la penso in modo diverso, ma secondo me in un altro modo, o produci la ricerca che testimonia quello che hai detto oppure puoi trattenere il fiato un paio di ore e poi andare a commentare altrove. Attenzione adesso perché stai per imparare le tecniche di HCE in 21 giorni. Io semplicemente sorrido di fronte a questo mito che ancora oggi circola nel mondo della formazione e della crescita personale. Ci sono persone che ti dicono che in 21 giorni puoi sviluppare abitudini o diventare bravo in qualcosa. Questo è falso. Tra l'altro già dal 2009 la ricerca scientifica ha evidenziato come per sviluppare abitudini di base servano almeno 186 giorni. Il mito dei 21 giorni deriva, lo dico per tuo divertimento, dalle osservazioni di un chirurgo estetico che ha scritto un libro che si chiama Psicocibernetica, il quale ha osservato, quindi senza nessun tipo di ricerca, ha osservato che le sue pazienti dopo interventi di chirurgia estetica cominciavano a sentirsi meglio con il loro aspetto dopo circa tre settimane. Da qui qualcuno ha tratto la regola aurea per cui il cervello sviluppa abitudini in 21 giorni. È sbagliato. E perché te lo dico? Perché ci tengo? Perché è un problema questo? Perché se tu approcci a una disciplina convinto che in 21 giorni diventerai bravo, ti ritroverai inevitabilmente poi a non aver raggiunto il risultato. E questo potrebbe portarti a dover comprare un altro corso o a sentirti poco efficace. In realtà sei bravissimo, semplicemente ti ci vuole un po' più di tempo. Parlando di formazione, come evitare il tema tanto caro a moltissimi consulenti del brainstorming, il brainstorming, la tempesta dei cervelli che peraltro se la unisci all'entanglement quantistico può fare cose davvero mirabolanti. In realtà nel 1993 hanno iniziato le ricerche, le ricerche vere, non le teorie campate per aria, a dimostrare che quando metti tante persone a fare brainstorming, salvo casi molto rari dove cioè il brainstorming è perfettamente guidato, secondo criteri molto precisi, di massima le persone producono meno idee di quante invece ne producono da sole e soprattutto anche di peggior qualità. Al brainstorming poi fra l'altro si aggancia un mito meraviglioso che è quello della intelligenza collettiva. Secondo alcuni formatori o consulenti, mettere dieci persone di un'azienda in una stanza a produrre idee può aiutare l'azienda a migliorare la propria performance. Dipende diciamo così almeno dalle competenze che hanno queste persone, perché è molto semplice, se metti dieci capri in una stanza io sono certo che la loro intelligenza collettiva non produrrà quel tipo di risultati che poi a fine anno si traducono in budget e fatturato, quindi prendi anche questo argomento con estrema attenzione. VAKOG, che sembra un insulto in lingua turca e in realtà è una sigla che significa visivo, auditivo, cinestesico, effettivo, gustativo. Allora qui entriamo in un campo molto serio, che è quello della capacità di cambiare la propria idea quando ti rendi conto che le cose che finora credevi fossero vere, in realtà non lo sono. Io vengo dal mondo della programmazione neurolinguistica e per anni ho preso parole colato questa divisione delle persone in macro categorie, secondo appunto la quale alcune persone sono più visive, altre più auditive, altre più cinestesiche e così via. In base a questa distinzione l'insegnamento che io ho registrato in buona fede è stato quello del visivo parla in questo modo, respira in questo modo, gesticola in questo modo e così via. Questo è il campo in cui tra l'altro invece di citarti ricerche non te ne cito, il motivo è semplice, non ce ne sono. Cioè da circa vent'anni almeno ricercatori, neuroscienziati, psicologi, il mondo della scienza in generale ha cercato in tutti i modi di dimostrare che queste categorie, che queste divisioni fossero in qualche modo corrispondenti al vero. Ebbene nessuno finora ci è riuscito. Si tratta cioè di teorie arbitrarie, il che tra l'altro confermato il mio sconforto perché ho sempre applicato questi principi con la convinzione che fossero veri, semplicemente alcune volte trovavo riscontro e altre volte no e non sapevo spiegarmi il perché. Poi studiando, aprendo altri libri, uscendo da quel tipo di mondo e abbracciando il mondo della scienza così come deve essere correttamente intesa, ho scoperto che in realtà non c'è nessun tipo di connessione tra il modo in cui una persona parla, il modo in cui una persona respira e così via. Quindi si tratta di fatto di teorie campate per aria che non hanno mai trovato un concreto riscontro e che quindi puoi tranquillamente lasciar perdere. Nessuna ricerca, nessun riscontro da oltre vent'anni. Ops. Tra l'altro a proposito dei miti proposti dalla programmazione neurolinguistica c'è un video interessante che abbiamo girato prodotto e che trovi su questo canale dove ti spiego quali altre teorie non hanno mai trovato riscontri pratici. Per cui quando si parla di PNL ci sono sicuramente una serie di spunti molto interessanti, quelli linguistici in modo particolare, che infatti non sono tipici della PNL ma derivano dallo studio di altri personaggi. In ogni caso ti invito ad approfondire seriamente e rigorosamente. Io so che è a volte complesso cambiare idea quando per anni hai creduto in qualcosa. Al tempo stesso la conoscenza rende liberi, anche di cambiare idea quando i dati dimostrano che quello in cui credevi non è esattamente come pensavi che fosse. Gli obiettivi nel mondo della formazione. Prima di tutto il tema degli obiettivi è davvero importante. Puoi trovare riscontro e approfondimenti nel video che abbiamo dedicato al mondo del coaching in cui parliamo tanto di obiettivi e in un altro video dedicato proprio all'approfondimento di come si realizza un obiettivo in HCE, sempre su questo canale. Tornando agli obiettivi, mi interessa in questo video sui falsi miti specificare una cosa. In tanti libri di coaching si trova una ricerca, uno studio, secondo cui ad alcuni studenti furono fatti scrivere i loro obiettivi e poi, misurati nel tempo, gli studenti che avevano scritto i loro obiettivi li avevano raggiunti, mentre quelli che non li avevano scritti non li avevano raggiunti. Quindi da qui nasce il mito degli obiettivi scritti, che devono essere per forza scritti perché altrimenti niente. Ebbene, lo studio citato in tanti libri di coaching non esiste. Nessuno mai ha trovato traccia di questo studio. Quindi di fatto non c'è una precisa e univoca correlazione tra scrivere l'obiettivo e il raggiungerlo. Può essere sicuramente per molte persone utile, al tempo stesso quello che qui ci interessa è smitizzare regole auree e lasciare alle persone la libertà di esprimersi anche in questo senso come meglio ritengono. Io personalmente scrivo gli obiettivi, al tempo stesso sottolineo che non c'è correlazione, per cui il prossimo che ti cita lo studio degli studenti di Harvard puoi tranquillamente alzare la mano e dirgli dove sta scritto. Visto che stiamo parlando di formazione e di corsi di formazione, di corsi motivazionali e ispirazionali, non posso fare altro che adesso dirti pensa positivo, dai che ce la fai. Ecco, questo è il mito del pensiero positivo. Un mito che nasce sulla base di osservazioni non verificate scientificamente nel 1952 ad opera di Norman Vincent Peale in quale ha scritto questo libro Il potere del pensiero positivo che appunto si basava su intuizioni interessanti ma del tutto prive di validazione scientifica. Infatti, e qui la ricerca ci porta un grande aiuto, i dati sconfessano questo mito, cioè pensare troppo positivo, visualizzarsi troppo vincenti, troppo contenti, troppo di successo può portare e di fatto statisticamente porta le persone ad abbassare la percezione di quanto impegno devono mettere rispetto alle situazioni che devono gestire. Per esempio, una ricerca famosissima parla di studenti di Harvard ai quali veniva fatto visualizzare costantemente loro stessi vincenti con voti altissimi. Ebbene, questi studenti poi presero voti inferiori. Perché? Perché troppa endorfina in corpo, troppa serotonina, qui la chimica è importante, ti porta a sottostimare l'importanza dell'impegno richiesto, a sottovalutare i problemi ad andare in quello che noi chiamiamo overconfidence bias e di cui puoi trovare risconto fra l'altro in un video dedicato proprio ai bias cognitivi. Qual è quindi la soluzione? Pensare negativo? La soluzione, come sempre, è nel mezzo. Qui chiamo in causa Richard Wiseman, uno dei più famosi e importanti psicologi, psicoterapeuti attualmente esistenti, grande ricercatore, il quale ha condotto ricerche vere e ha verificato come la miglior soluzione sia il bi-pensiero. Cioè, pensa sicuramente agli scenari migliori e al tempo stesso, pensa anche a tutto quello che potrebbe andare male, così che il cervello sia pronto e che, questa è la chiosa HCE, tu abbia in corpo la giusta quantità di ormoni e di neurotrasmettitori che ti permettono di ottenere il massimo della performance. Comunque, nel dubbio, dai che ce la fai. Un tema clamoroso di cui parlare è il tema delle convinzioni. Attento a me? Se vuoi, puoi. Secondo alcuni mitologi, a questo punto li chiamo in questo modo, ti basta il potere delle convinzioni per ottenere qualsiasi risultato. Che se tratti di benessere personale, di salute, di lavoro, con le convinzioni giuste potrai ottenere tutto quello che desideri. No. Primo, questo mito è molto pericoloso perché, da un punto di vista proprio etico, convincere le persone di questa cosa rischia di farle sentire inadeguate qualora poi non raggiungano le performance richieste. Perché se una persona crede che si tratti soltanto di atteggiamento mentale, di convinzioni, di potere della propria energia e poi non raggiunge il risultato, rischia di sentirsi davvero inadeguata. Questo personalmente lo trovo eticamente inaccettabile. E poi perché essere convinti di saper fare qualcosa non ti rende abile a fare qualcosa. Può al limite darti l'energia che ti serve per trovare la voglia di fare, di fare pratica, di studiare. Ma tu vai a fare un esame convinto di essere più intelligente, senza aprire libri. E poi vieni a dirmi quanto hai preso come voto. Ah, un'ultima cosa, giusto per chiarezza. Il multitasking non esiste. Questo è un altro dei miti che ogni tanto qualche produttorio formatore vuole veicolare ai suoi discenti per spiegare in che modo possono diventare polifunzionali, multitasking, fare diecimila cose contemporaneamente. Non si può. Puoi switchare da un compito all'altro abbastanza rapidamente, ma la ricerca dimostra in modo inequivocabile che è impossibile prestare attenzione a due stimoli contemporaneamente per più di qualche secondo. Inevitabilmente il cervello inizia poi a lasciarne perdere uno e a concentrarsi solo sull'altro. E lo sai. Immagina o ricorda la conversazione a cui hai assistito fra tre persone, comincia a ascoltare uno, comincia a ascoltare quell'altro, dopo un po' da una parte o dall'altra. Ma non puoi gestire entrambe le cose con la stessa efficacia. Quindi concentrati su il tuo compito che è sicuramente meglio. Gran finale, tutto il mondo delle etichette. Le personalità, l'animale, che animale sei, che colore ha il tuo cliente? Sono tutte etichette sbagliate. Sbagliate perché non tengono conto di tutte quelle che sono le variabili che invece caratterizzano l'interazione umana. Una persona che reagisce in un certo modo, in un certo contesto, con un certo vestito, può reagire in un altro modo, in un altro contesto, con un altro vestito. Etichettarla ti porta sicuramente fuori strada. Quindi che tu ti senta un cliente panda, o una persona verde, o una personalità fucsia, ricordati che si tratta di etichette pregiudizievoli che possono rovinarti davvero le interazioni umane. Lascia stare. Questi sono sicuramente alcuni dei miti, ce ne sono molti altri. In ogni caso, tutte le informazioni che ti ho dato sono molto scomode per qualcuno, perché dover riscrivere le slide a volte è impegnativo. Leggere libri per alcuni può essere davvero impegnativo, eppure sono tanto, tanto utili per persone come te che credono, come noi, che la conoscenza rende liberi. Molto spesso mi chiedete sui social come aiutarci in questa opera di divulgazione, avendo ben capito quanto è importante. È molto semplice. Anzitutto, se non l'hai ancora fatto, iscriviti a questo canale, attiva le notifiche per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. E poi, metti like a questo video, metti like e condividi, perché più queste informazioni girano per il mondo, e più le persone potranno vivere una vita più piena, ricca e felice. Quindi metti like e condividi. Più siamo al mondo a pensare liberamente, e più è difficile per i cialtroni fare quello che vogliono alle nostre spalle.